Un saluto al Sua Eccellenza Signor Prefetto, alle autorità civili e religiose, ai rappresentanti delle Forze Armate e alle Forze di Polizia e a tutti i cittadini presenti che ringrazio per aver risposto positivamente all'invito del Comune a partecipare a questa giornata. Permettetemi di rivolgere un particolare ringraziamento all'Associazione Nazionale dei Garabinieri, il cui impegno si deve alla commemorazione di una pagina così terribile della nostra storia, senza dimenticare la loro quotidiana presenza sul territorio per la sicurezza di tutti noi. Quest'anno il Comune di Sanremo ha voluto ricordare i caduti di una serie con un simbolo di 19 ciclamini bianchi e rossi per ogni caduto, per rivolgere il nostro pensiero a coloro che hanno perso la vita nell'avventimento del proprio dovere e ai due civili che hanno trovato la morte proprio in quel tragico evento di 14 anni fa. Onore quindi a questi caduti, così come a tutti quei caduti che hanno perseguito il nobile obiettivo della difesa della patria. Tutti devono trovare posto nella memoria individuale e in quella collettiva, perché ricordano i giusti valori che ciascuno di noi deve raggiungere nel proprio operato, affinché si possa attribuire un concreto significato a questa giornata.